San Valentino è la festa degli innamorati, ma è veramente la festa in cui si celebra l'amore o è diventata una festa commerciale? Vediamo cosa ne pensano i nostri cittadini. San Valentino è ancora una festa per celebrare l'amore oppure una festa commerciale? No, è per l'amore, sì, assolutamente. Poi c'è anche la parte commerciale comunque. Come mai ha deciso di fare questo regalo proprio nel giorno di San Valentino? Perché stamattina devo andare via, devo partire, perché io ero già qua e l'ho preso, no? Così faccio una sorpresa. Sarà scontato dirlo, ma l'amore va celebrato tutti i giorni, però è bello in questo giorno ricevere qualcosina. Lei che programmi ha per oggi? Nessuno, a casa con i miei figli, mio marito. Diciamo che è una giornata così carina, però ecco io sinceramente non do importanza più di tanto, però può essere una scusa per uscire a mangiare qualcosa, una scusa per festeggiare, sì, però niente di che, insomma. Ti aspetti di risolvere un regalo? No, veramente no, però non si danno mai le cose della vita. Un regalo è sempre gradito? Sì, quello sì, però il regalo che mi può fare il mio ragazzo è darmi l'amore ogni giorno. San Valentino perché ha valore potrebbe essere anche qualcosa di interessante, però ai tempi oggi ormai tra i social e tutto quello che si vede in tv credo che abbia perso un motivo. Però per chi ama le tradizioni, il rispetto, l'amore va oltre San Valentino. L'amore quando c'è, c'è, in ogni caso anche nelle proprie azioni di ogni giorno, sono d'accordo con quello. Non serve una rosi a mia moglie, la prendo sempre, anche perché c'è il giardino, ho quelle profumate, quindi meglio di quelle. Per me San Valentino è commerciale, non ci credo. Secondo me è una festa commerciale perché comunque l'amore andrebbe dimostrato tutti i giorni, quotidianamente, con piccoli gesti. Ti aspetti di ricevere qualcosa oggi? Sì. Hai fatto qualche regalo? Sì, qualcosa di piccolo appunto. Perché con del pensiero? Esatto, nulla di sfarzoso. E stasera invece che programmi hai? Ancora non abbiamo programmato nulla, quindi non so. Una festa che festeggia l'amore, non soltanto nei confronti della persona che si ha accanto, ma anche... Gli familiari, gli amici, una sorella, un fratello. Regali di San Valentino, come sta andando? Bene, noi abbiamo avuto un bel riscontro, sia uomo che donna, e quindi lo pensa sia l'uomo alla sua donna, come la donna pensa al suo uomo. Chi è che spende di più, l'uomo o la donna? Ebbè, l'uomo, l'uomo, dai, sì, l'uomo vuol far sempre bella figura. La donna ci tiene di più a ricevere qualcosa a San Valentino? Eh, penso proprio di sì. Si punta sempre alla classica rosa rosso, oppure c'è qualche altra richiesta? Che cosa c'è, tipo ad esempio i tulipani? Però la cosa fondamentale, è una cosa per me specifica, la rosa è sempre quella che rimane tradizionale. Perché la rosa è il fiore, il simbolo dell'amore. Poi, certo, c'è gente che preferisce il tulipano, o preferisce qualche altro tipo di fiori, tipo che so, una bella orchidea, oppure un lilium. Cioè, fiori che sembra, però come fiore principale, sembra la rosa.